Sfruttare il fattore derby è l'input che il Cerignola vuole dare al suo campionato per restare ai piani altissimi del girone C di Serie C. L'attuale secondo posto a 25 punti, 4 in meno della capolista Benevento, non è affatto frutto del caso. Sette risultati utili nelle ultime otto partite di campionato sono il ritratto di una squadra che ha trovato le giuste misure e che adesso non vuole più cedere il passo. Così i prossimi 180 minuti rappresentano test probanti per Martinelli e compagni che non dovranno varcare i confini della Puglia ma saranno chiamate a cercare di ripetere quanto già fatto nell'unica sfida con una cor regionale sin qui giocata in campionato, vincere come è successo nella serata dello Zaccheria di Foggia. Il calendario prevede un doppio impegno esterno consecutivo a lunedì sera. L'11 novembre sarà tempo di fare tappa allo Iacovone di Taranto in una partita che si giocherà senza tifosi ospiti sugli spalti su disposizione della prefettura. Sette giorni dopo, il 18 novembre, sempre in notturna, l'audace farà visita al Monopole al Veneziani in quello che oggi è a tutti gli effetti uno scontro sul podio del Girone C. Partite che sommate all'incrocio di Benevento del 30 novembre e al derby casalingo con l'Altamura di sei giorni dopo diranno tanto sulle reali ambizioni dei gialloblu. Allo Iacovone il Cerignola si presenterà poi senza lo squalificato capomaggio. Due i candidati per la sostituzione del numero 5, Bianchini con Tascone che giocherebbe in quel caso da play, o Ruggero in fascia e da registrare il recupero di Coccia in lizza con Tentardini per un posto. Con il primo in campo, Russo slitterebbe in fascia a sinistra.